più significativi, l'ultima dicevi tu deludente per un'impostazione quindi si può provare chi vuole billion esteri che fra l'altro ripeto in alcune provate si gioca ancora a quattro ma i cavalli stanno per andare in partenza 1 Boreal Est, 2 Besta V, 3 Baby Blue, 4 Billionaire Sphere, 5 Bambi, 6 Bibi Bez, 7 Birko Alter in seconda fila 8 Belba Baggins, 9 Biatimin, 10 Bonjour Alavi rapporto di scuderia fra il 2 Besta V e il 6 Bibi Bez prima corsa di Palermo in pista indigeni di 4 anni sulla breve distanza favori al gioco per il 3 Baby Blue ed il 5 si tratta di Bambi stacco della macchina, si parte, si parte ed è Bambi che prova il lancio veloce che non abbiamo visto tante volte la favorita e prova a scavalcare Baby Blue a questo punto deve prendere in mano Andrea Buzitta mentre c'è stato il 9 e la squalifica per Best AV dunque con lancio in 13-7 al comando un po' a sorpresa Bambi per linea esterna prova a risalire Birko Alter e Baby Blue si è sistemata in seconda posizione davanti a Billionaire Sphere mentre in seconda paria prova a farsi avanti Belba Baggins 29,4 da 1,13,5 ai primi 600 metri quindi si sta andando abbastanza veloci con Bambi a comandare nei confronti di Baby Blue e Billionaire Sphere lungo la corda mentre per linea esterna vediamo sempre il Birko Alter terza paria adesso c'è Bonjour Alavi mentre dietro al numero 7 di Birko Alter c'è Baby Bez dopo i primi 600 metri in 44,5 un minuto secco per i primi 800 metri si viaggia da 1,15 posizioni invariate con Bambi al comando Birko Alter al suo esterno in scia sempre Baby Blue al cui fianco c'è sempre Bonjour Alavi 1,15,6 il primo chilometro al comando Bambi arretra il numero 7 di Birko Alter viene via in terza numero 1 squalificato che va di galoppo Serra sotto Baby Blue numero 6 squalificato Billionaire Sphere fa un parziale in 1,15 1,14,4 di parziale da 1,15 scappa via Bambi inseguita da Baby Blue e Billionaire Sphere entrando se ne sta andando Bambi in seconda posizione ancora Baby Blue con Billionaire Sphere che sta venendo via in terza ruota parziale in 15,1 Bambi se ne sta andando in seconda posizione scappa Billionaire Sphere Bambi sembra aver fatto tutto semplice semplice vince facile in secondo il numero 4 di Billionaire Sphere ancora Baby Blue 2 minuti secchi 1,15,1 la media al chilometro con 15 secchi la retta d'arrivo per Bambi i colori sono di Giuseppe Giannusa training e driver per Giuseppe Porzio Junior è una vittoria che Giuseppe Porzio ha costruito soprattutto con una partenza notevole scavalcando in partenza Baby Blue e questo non era assolutamente facile da prevedere e una volta al comando ha fatto tutto come da manuale 15,1 la media alla finale un maluccio devo dire Baby Blue che è tutta tirata ha poi perso anche il secondo posto buono invece il finale di Billionaire Sphere in numeri dunque 5,4,3 l'ordine d'arrivo da confermare della prima corsa di Palermo e questo è un'ottima